salve a tutti signori io sono lorenzo e questo è il mio canale espertone benvenuti bene in questo video che sarà un breve tutorial voglio spiegarvi come far riapparire i tre tasti di navigazione che ci sono sotto i nostri smartphone allora ognuno li chiama a modo suo però comunque se volete cercare mettete tasti navigazione o navigazione per abbreviare questi tastini qua vanno a appunto scherzo tasto menu per andare dentro sulle applicazioni che avevo aperto quello centrale è per chiudere per andare sulla pagina home e questa freccettina indietro è la freccettina appunto per tornare indietro bene questi possono sparire perché abbiamo messo le gesture cioè con dei movimenti possiamo andare a fare quello che fanno questi tre tastini qui adesso vi porto qui lo schermo del mio cellulare così vedete cosa sto facendo eccoci qua allora siamo nella schermata principale come vedete sotto abbiamo i nostri tre tastini e adesso cosa dobbiamo fare dobbiamo far sparire quei tastini quindi impostazioni andiamo qui vado a digitare qui il mio navigazione navigazione barra di navigazione samsung chiama mentre ci sono altri che chiamano tasti di navigazione eccetera quindi comunque voi per cercare più facilmente mettete navigazione e vi troverete appunto su questa schermata qua che ci sono i nostri tastini barra di navigazione vedete possono esserci pulsanti o gesti se io premo gesti di trascinamento spariscono quei tre pulsanti lì quindi per fare le gesto dovrò alzare questa barra che vedete qua sotto quella linea dritta se rimetto pulsanti vedete che riappaiono quindi per andare a trovarli basta che digitate navigazione come avete visto torniamo indietro un attimo qui dove c'è la nostra lente di ingrandimento faccio così ok e c'è scritto barra di navigazione scriviamo navigazione barra di navigazione e vado qui e qui c'è pulsanti e gesti molto molto semplice A presto